Signore Dio, che hai costituito di molti popoli l'umana famiglia, da te creata e credenta, guarda per noi che abbiamo lasciato le nostre case per servire il tanto. Grazie per la visione! 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 Voi potete aver illustrato il vostro servizio, il vostro corso, in qualsiasi maniera, ma aver visto voi. Alcuni sembra che siete visti ieri e che siete tornati oggi a fare una scatagnata, e invece c'è gente che non si vede qui da anni e anni. Questo cosa significa? Significa che quello che io chiamo il quinto del cameratismo, della fratellanza. Praticamente ancora va, cioè lo abbiamo, lo ho saputo dare a voi, voi lo avete saputo trasmettere, e anche la vostra famiglia, la vostra famiglia, sanno che cosa voi avete passato, non di gravissimo, ma di serio, di disciplinato, di ordinato, di formalmente corretto. E quindi l'educazione che avete dato al vostro domani viene praticamente da questa stagione lontana, ma che a me, personalmente oggi, è sembrata vicinissima. Grazie. Grazie. Grazie.